47 anni sono stati un lungo periodo, non è soltanto questo però quello che per il quale vi ringraziamo anche qui oggi al Quirinale vi ringrazio a nome dei nostri concittadini, ma è per quello che avete manifestato in quei giorni costantemente, come dicevo lo spirito di squadra, la coesione tra di voi, una normalità e semplicità di comportamento che ha affiancato al successo sportivo un grande valore umano, complimenti anche per questo, avrete certamente sospinto molti giovani a dedicarsi al tennis e questa è una cosa che arricchisce la platea della nostra capacità di esprimere talenti nel tennis come voi avete fatto e ha continuato a fare. Naturalmente il tennis non si è fermato, la prima scadenza importante in Australia è stato un entusiasmo, si è rinnovato in maniera particolarmente intensa, complimenti a Sinner per l'evento di uno slam e un grande risultato, devo confidarle che anche se la domenica quel giorno ero impegnato, ho potuto guardare a tv soltanto all'inizio del quarto set, questo ha giovato al mio buon umore perché non ho vissuto i primi due set, ma subito ho avuto la certezza che lei avrebbe vinto, perché vedevo la tranquillità con cui stava rispondendo e giocando e lei è stato davvero un grande successo.